In una notte avvolta da un manto di misteri, dove ogni ombra sussurra segreti e ogni passo potrebbe essere l'ultimo, una figura enigmatica emerge dal buio. È Asu, una donna tanto affascinante quanto letale, pronta a sconvolgere tutto ciò che conosciamo. Evasa da una clinica psichiatrica grazie all'ingegno del suo enigmatico fratello Emir, Asu ha un piano di vendetta ben chiaro, distruggere Nian e gettare Kemal nella più profonda disperazione. Libera dalle catene della clinica, Asu trova rifugio in un nascondiglio segreto, dove insieme a Emir inizia a tessere le trame del suo crudele piano. L'ossessione per Kemal, l'uomo che ha amato senza speranza, e l'odio per Nian, la donna che Ghili ha rubato il cuore, alimentano ogni sua azione. Decisa a colpire durante la festa di fidanzamento di Nian e Kemal, Asu si infiltra nella villa di Leila con una siringa di veleno nascosta nella borsa. Mentre i festeggiamenti procedono, Asu si fa strada verso la camera da letto di Nian. Proprio quando sta per compiere l'atto fatale, un giocattolo lasciato accidentalmente sul pavimento da un bambino sveglia Leila, che accorre con una pistola in mano, pronta a difendere Nian. Colta di sorpresa, Asu tenta di reagire, ma Leila è più veloce, un colpo secco e Asu cade a terra ferita, ma non morta. Lì, in quel momento di vulnerabilità, Asu rivela una verità scioccante. Non è stata lei a orchestrare tutto. Emir, il fratello che l'ha sempre sostenuta, è il vero burattinaio dietro i suoi crimini. Questo colpo di scena sconvolge tutto. Emir, apparentemente l'alleato più fedele di Asu, ha i suoi piani segreti. Non vuole solo distruggere Nian e Kemal, ma anche controllare completamente la vita di sua sorella, manipolandola per i suoi scopi. Sentendosi tradita e usata, Asu è a un bivio, continuare con il suo piano di vendetta o rivolgersi contro il fratello che l'ha ingannata. Durante l'interrogatorio con il detective Merkan, Asu finalmente crolla e ammette tutti i suoi crimini, dal sabotaggio dell'auto di Nian all'omicidio di Ozan, confessando anche di aver cercato di incastrare Kemal. Tuttavia, non menziona mai l'aiuto di Emir, proteggendo il fratello nonostante tutto. Il giorno del processo, la corte è gremita. Asu, visibilmente provata, si presenta davanti al giudice. La difesa cerca di far leva sui suoi disturbi mentali, chiedendo il ricovero in una clinica psichiatrica anziché il carcere. Dopo un'analisi approfondita e testimonianze emotive, il giudice dichiara Asu mentalmente instabile, ordinando il suo ricovero in una struttura specializzata. Tuttavia, Emir continua a tramare nell'ombra. L'adattamento alla nuova vita nella clinica psichiatrica è difficile per Asu. Ogni giorno è una lotta contro se stessa e i suoi demoni interiori. Ma la promessa di Emir di farla uscire la tiene aggrappata a una speranza fragile. Determinata a non essere rinchiusa per sempre, Asu pianifica un'altra fuga. Questa volta, però, il suo obiettivo non è solo Nian. Vuole affrontare Emir, il fratello che l'ha tradita. La notte della resa dei conti, Asu si infiltra nuovamente nella villa di Leila, armata e determinata. Nian e Kemal sono lì, ignari del pericolo imminente. Mentre Asu si avvicina, Emir appare all'improvviso. Il confronto tra i due fratelli è intenso, pieno di accuse e rivelazioni dolorose. Con la pistola puntata contro Emir, Asu è pronta a fare giustizia da sola, ma proprio quando tutto sembra perduto, una voce interrompe la scena. È Leila, con la polizia alle spalle. Con un ultimo sforzo, Asu si arrende, lasciando cadere la pistola. La polizia arresta Emir, rivelando le prove del suo coinvolgimento in tutti i crimini di Asu. La verità viene finalmente a galla e Asu, nonostante tutto, trova una sorta di pace interiore. Sa che deve affrontare le conseguenze delle sue azioni, ma almeno non sarà più manipolata dal fratello. Riportata nella clinica psichiatrica, Asu affronta la sua nuova realtà con la certezza di essere curata. Nyan e Kemal, nonostante il trauma subito, riescono a trovare un nuovo equilibrio nelle loro vite, sapendo che la minaccia è finalmente scomparsa. La villa di Leila, testimone di tante tragedie, ritrova una sorta di pace. La storia di Asu, Nyan e Kemal non è solo una saga di vendetta e tradimento, ma anche una testimonianza della forza dello spirito umano e della capacità di superare anche le avversità più oscure. Nyan e Kemal decidono di sposarsi, creando una famiglia basata sull'amore e la fiducia reciproca. Leila, d'altro canto, continua a supportare la sua famiglia, diventando un pilastro di forza e saggezza. La vicenda di Asu C insegna che la vendetta e l'odio non portano mai alla felicità, ma è solo attraverso il perdono e la resilienza che possiamo trovare la vera pace.